Buonasera, benvenuti a questo concerto, un concerto che vede protagonista Riccardo, che noi tutti conosciamo e la quale vogliamo molto bene. Diciamo che questo è un aggiuntamento molto importante perché dopo tanto tempo di preparazione, anche esaggi, studi, eccetera, ecco che finalmente siamo arrivati a un concerto che non è tanto scontato per un bambino così giovane, per mettere di chiamarlo bambino, non ancora ragazzino, dieci anni, anche siamo ancora proprio nella fase noi di iniziare per tanti anche dello studio di pianoforte, invece Riccardo a dieci anni da solo affronta un intero concerto, un concerto lunghino anche bisogna dire perché sono tanti i brani, il programma è un programma variegato, si alterneranno brani classici a brani invece di autori più moderni e quindi è una grande soddisfazione per me che sono la sua insegnante, ma per Riccardo stesso e per la famiglia. Io devo ringraziare ovviamente Francesca e Davide che hanno permesso anche questo evento, insieme abbiamo organizzato, ringraziamo anche ovviamente la bottega del caffè che ci ospita e io devo ringraziare proprio questi due genitori che con tanta cura, con tanto amore, con tanta dedizione curano questo lato artistico di Riccardo. E poi devo fare un ringraziamento speciale al nonno, nonno Pino, perché è stato il primo che ha messo le mani nel pianoforte a Riccardo quando era piccolino. Riccardo l'ho conosciuto, aveva sette anni, quindi ormai sono tre anni che studia con me, però se non c'era l'input del nonno probabilmente non si scopriva questa, diciamo questa dote. Mi ricordo sempre quando Francesca mi ha chiamato la prima volta, poi la terza, alla fine, tipo stop che mi ha chiamato, mi ha detto, va bene, vediamo di trovare un momento per poterci incontrare. Io lo sapevo, questo è motivo per cui ho continuato a chiamare e a cercare di avere un incontro. Io ti prendo solo un secondo Shilla, semplicemente perché le persone che sono qua meritano questo mio intervento breve e breve. Io vi ringrazio davvero tutti di cuore, per che ognuno di voi rappresenta un pezzo importante del nostro passato, presente e del nostro futuro. È un momento particolare, difficile per tutti, quindi già il fatto di essere qui per noi è motivo di orgoglio e ve ne ringraziamo davvero tanto. Grazie. Allora, prima di iniziare il nostro concerto io vi prego di mettere silenziale il vostro cellulare in modo che Riccardo possa effettivamente concentrarsi e fare, diciamo, di fila tutto il concerto. Allora, il concerto sarà accompagnato dalla proiezione di alcune immagini che sottolineano in carattere dei brani che Riccardo va a interpretare e anche da una piccola introduzione che farò io, che anche questa introduzione può aiutare un pochino di più a entrare nel brano. Detto questo, io chiamerei il nostro Riccardo. Il primo brano che seguirà è il brano di Piazza, con stil di un nostro e te, la trevi. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, secondo brano Paglierino di Vinci Guerra. Il giallo è il simbolo della luce, del sole, ma anche della conoscenza e dell'energia. Nel buddismo è simbolo di saggezza. In Cina il giallo era associato all'imperatore, alla salute, agli onori, alla spiritualità, alla saggezza, alla pazienza e alla tolleranza. In Giappone rappresenta la grazia e alla novità. Gli antichi greci e romani lo usavano negli affreschi parietari, ricavandolo dall'opera, e gli antichi romani lo indossavano negli indumenti per cerimonie e matrimoni. Secondo Kandinsky, il giallo, quando è guardato direttamente, rende l'uomo irrefrieto, lo funge e rivela il carattere della forza espressa dal colore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Arancione. Dal rosso faldo, rinforzato dal giallo, nasce l'arancione, che è simbolo di armonia interiore, creatività artistica e fiducia in se stessi e negli altri. In occidente il termine arancione è compasso solo nel XIV secolo, dopo l'importazione dei primi algoli d'arancio, che producono le arance dal colore appuro, appunto, arancio. Prima della scoperta dell'arancio, questo colore veniva definito con il termine rosso. Ciò in parte è rimasto in alcune espressioni del linguaggio comune, come per esempio gatti rossi, capelli rossi e pesci rossi. Anche se in realtà questi sono di colore arancione. Secondo Kandinsky, l'arancione in musica ha il suono di una campana o un robusto contratto o una viola. Anche se in realtà sono di colore arancione. Anche se in realtà sono di colore arancione. Anche se in realtà sono di colore arancione. E' un famoso brano musicale per pianforte, composto nel 1976 da Paul de Senneville e Olivier Tossard. Il brano era dedicato ad Adelaine de Senneville, la secondogenita appena nata di Paul. Dopo aver composto il brano, i due amici compositori indissero delle audizioni per scegliere l'artista che avrebbe dovuto inciderlo. Tra una ventina di candidati fu scelto un pianista francese, allora ancora sconosciuto, tale Philippe Pesce, che sarebbe poi diventato famoso in tutto il mondo con lo pseudonimo di Richard Vladimir, dal cognome di sua bisnonna. Grazie a tutti. 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 Il colore rosa è identificato da sempre come segno di ottimismo e di spensieratezza, oltre ad essere la tinta che simboleggia la giovinezza e la bellezza femminile. Per gli antichi egizi racchiudeva in sé le qualità del rosso, simbolo della vittoria e della vita, e del bianco, simbolo di onnipotente e purezza. Il suo più alto significato spirituale era espresso le fiore di loco. La scelta di utilizzarlo oggi, per la propria casa o anche per una stanza, è indicata per chi ama il gusto un po' e il gusto, senza però per questo sentirsi qui dentro. La scelta di utilizzarlo oggi, per la propria casa o anche per la propria casa o anche per la propria casa o anche per la propria casa. La scelta di utilizzarlo oggi, per la propria casa o anche 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 per la propria casa. Grazie. 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 e a volte inaccessibilità. Ottenere questo colore è sempre stato molto difficile perché se si mescolano male i colori facilmente si ottiene un grigio o un marrone. Per questa ragione, fino alla fine del medioevo, il nero era poco presente nei quadri o perlomeno su anche superfici ed in genere si usava in piccole quantità nelle miniature utilizzando l'inchiostro. È stata la morale cristiana a dare una svolta ed il nero diventò il colore, un colore di moda per gli ecclesiastici ma anche per i principi. Fino al XVII secolo soltanto i ricchi potevano permettersi il nero perché era molto costoso. Secondo Kandinsky, il nero è espresso musicalmente come una pausa che chiude definitivamente e dopo la quale una continuazione è come l'inizio di un nuovo mondo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Grazie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il nome delle composizioni si rifà all'antica festività spartana delle Ginnopedie. Durante queste celebrazioni aveva luogo la Ginnopedia una danza processionale seguita da campi ed esercizi ginnici. Grazie a tutti. 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 tutti. a 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 tutti.